Ci sono tantissime offerte sui prodotti di Insta360 e quindi oggi vedremo sia quali sono le migliori promozioni ma anche che differenze ci sono fra le varie videocamere. Intanto partiamo dal fatto che ci sono tre serie principali, ovvero la serie X, la serie Ace e la serie Go. Iniziamo quindi dalle videocamere che registrano a 360 gradi, ovvero dalla serie X. Queste videocamere, grazie a una doppia lente che registra oltre 180 gradi, ci permette di realizzare dei video a 360 gradi. Ma che cosa significa? Beh, all'atto pratico ci basterà montare la nostra videocamera su qualsiasi supporto, iniziare a registrare e inquadreremo tutto. Infatti ci potremo spostare all'interno dell'inquadratura dopo aver registrato il video e questa è una grandissima comodità. Ovviamente le possiamo utilizzare in qualsiasi situazione anche perché ci sono veramente infiniti accessori che ci permettono ad esempio di utilizzarle sott'acqua, sulla moto, in bici, insomma veramente ragazzi possiamo fare di tutto. E un'altra comodità è che c'è un punto cieco. Questo significa che il selfie stick verrà automaticamente cancellato dalle nostre riprese. Noi non dovremo far nulla ma automaticamente le nostre videocamere, in questo caso la X3 o la X4, elimineranno il selfie stick per noi. E questo ci permette di ottenere delle inquadrature uniche anche in stile videogioco, proprio con una visuale in terza persona. Naturalmente poi possiamo ottenere anche una classica inquadratura zoomando sul nostro video oppure possiamo rendere il tutto più grandangolare ma possiamo ottenere appunto anche questi effetti molto sferici come questo qui del Tiny Planet. Insomma il limite è la nostra immaginazione. Tra l'altro sia per queste videocamere che per le altre è disponibile l'applicazione e il programma per computer. Entrambi sono totalmente gratuiti e ci permettono di fare infinite modifiche. Ora passando però alla differenza fra queste due videocamere vi posso dire che la X3 registra in 5,7k fino a 30fps mentre la X4 in 8k fino a 30fps. So bene che alcuni di voi penseranno ma a che cosa serve il 5,7k? L'8k è totalmente inutile su un monitor full HD. Intanto partiamo dal fatto che non è assolutamente vero. Anche con un video normale vedremo delle differenze ma lasciamo stare questo discorso e parliamo delle due lenti. In questo caso fate finta che avete la lente anteriore A che registra in 4k e la lente posteriore che registra in 4k. Sommandole otteniamo un 8k e appunto quando noi registriamo questo video in 8k inevitabilmente poi zoomeremo, cambieremo inquadratura. Quindi più la risoluzione è alta minore sarà la perdita di qualità quando noi faremo il reframe. Quindi avere una risoluzione più alta è sicuramente molto importante. In ogni caso anche la X3 ha una buona risoluzione ma all'atto pratico se dovete utilizzare queste videocamere principalmente per condividere i filmati sui social, sullo smartphone allora la X3 va molto più che bene. Tra l'altro è un po' più sottile, un po' più leggera, insomma è più piccolina. La X4 è un po' più grande, la batteria è più grande ma soprattutto la qualità video è superiore. Io infatti che utilizzo queste videocamere anche per YouTube quindi per vedere i video sui monitor più grandi beh inevitabilmente utilizzo ormai sempre e solo la X4 perché ha una qualità più alta e appunto posso ottenere anche una qualità maggiore nel momento in cui voglio zoomare un po' di più. Con le promozioni del momento e se utilizzerete i link che vi lascio in descrizione potrete avere la X4 a 475,99€ con il selfie stick invisibile e la borraccia di Insta360 mentre la X3 la trovate a 369,99€ con il selfie stick invisibile e la microSD da 64GB. E ovviamente ragazzi il selfie stick invisibile è fondamentale sia per la X3 che per la X4. Adesso invece passiamo alle videocamere a lente singola, infatti come potete vedere queste videocamere dispongono solo di una lente e hanno la classica forma da action cam, sul retro non abbiamo una seconda lente quindi significa che avremo un video normale, fra virgolette, proprio come quando utilizziamo una videocamera, lo smartphone insomma quello che inquadriamo sarà effettivamente il nostro video. La particolarità di questa serie di action cam è la qualità video infatti partiamo dal 6K della Ace fino all'8K a 30fps della Ace Pro 2 insomma tutte e tre le videocamere sono eccezionali da questo punto di vista e naturalmente le versioni Pro sono superiori più indicate appunto per coloro che hanno la necessità di avere la massima qualità video inoltre su tutte e tre è possibile ribaltare il display che è veramente comodissimo infatti le potremo utilizzare in tantissimi modi differenti ora la differenza principale di queste tre videocamere è che la Ace Pro 2 è l'ultimo modello quella appena uscita proprio ad ottobre 2024 mentre la Ace e la Ace Pro sono i modelli del 2023 ora all'atto pratico la Insta360 Ace è il modello low cost definiamolo così ma comunque mantiene una qualità video molto alta infatti possiamo registrare in 6K e per chiunque ha la necessità di fare dei video normali senza troppe pretese magari per i social allora la Ace va più che bene con la Ace Pro abbiamo una qualità video ancora più alta tra l'altro abbiamo le lenti fatte in collaborazione con Laika il sistema di riduzione del rumore associato all'intelligenza artificiale c'è proprio un chip IA infatti in queste videocamere troviamo la modalità Pure Video che ci permette di registrare i video in condizioni di scarsa luminosità con una qualità unica appunto nel mondo dell'action cam poi con la Ace Pro possiamo registrare anche in 8K fino a 24 fps e io ho utilizzato questa action cam per tantissimo tempo proprio fino a quando non è uscita la Ace Pro 2 che va a ottimizzare la Ace Pro portando la qualità video a un livello successivo migliorando anche l'audio insomma ha portato tantissime migliorie ma dato che stiamo parlando di promozioni beh oggettivamente mi sento di consigliarvi la Ace Pro che ha un costo di 329 euro e tra l'altro è incluso anche lo sgancio rapido che è un valore di circa 40 euro quindi sicuramente per le videocamere a lente singola questa qui è la miglior promozione sia se volete utilizzare i vostri video sui social sia se volete fare qualcosa di un po' più professionale passando alla Ace invece la troviamo a 215 euro e 99 e anche qui è incluso lo sgancio rapido invece per quanto riguarda la Ace Pro 2 è al prezzo di listino di 449 euro anche perché è il modello appena uscito poi ovviamente anche qui possiamo gestire tutto tramite l'applicazione abbiamo tantissime funzioni ma se volete approfondire il tutto vi lascio i video che trovate sia qui sopra che in descrizione infine ragazzi passiamo alla serie Go che predilige le dimensioni e il peso viste così però chiaramente sembrano magari delle action cam simili alla serie Ace ma in realtà possiamo sganciare la videocamera e portarla con noi appunto questo qui è l'action pod che ricarica costantemente la nostra videocamera ci permette di vedere i video di cambiare le impostazioni insomma le classiche funzioni di un action cam ma possiamo tranquillamente lasciare questo nello zaino o addirittura a casa e portarci solo la videocamera in questo caso vi sto mostrando sia la Go 3S che la Go 3 la Go 3S è l'ultimo modello quello del 2024 ed è in grado di registrare i video in 4K la Go 3 invece dell'anno precedente è regista video fino in 2,7K entrambe sono leggerissime e in confezione includono tantissimi accessori quindi potremo tranquillamente montare la nostra action cam sulla visiera di un cappello la potremo agganciare alla maglietta insieme al medaglione incluso in confezione insomma ragazzi anche qui abbiamo tantissime possibilità proprio come la serie X ma in questo caso più che nella gestione dell'inquadratura nella gestione della nostra videocamera sia che la vogliate mettere da qualche parte dove non volete avere un peso extra o se appunto la agganciate qui ve la dimenticate e registrate ovviamente entrambe sono disponibili in entrambi i colori sia bianca che nera ma una cosa che dovete tenere in mente è che queste action cam hanno una memoria integrata quindi al contrario della serie Ace e della serie X qui le acquisteremo proprio con la memoria integrata o la 64 giga la 128 insomma sul sito trovate ovviamente tutte le versioni e non possiamo inserire una memoria aggiuntiva per questo motivo non acquistate la 32 giga che tra l'altro non è stata messa con la Go 3S ma era disponibile solo con la Go 3 e se non sbaglio adesso è stata proprio rimossa dal sito comunque non è disponibile in ogni caso vi consiglio di acquistare la Go 3S perché l'ultimo modello è a praticamente lo stesso prezzo della Go 3 ovvero 359 euro e 99 e ovviamente c'è anche qui un accessorio extra anzi due ovvero l'astuccio portatile e la pellicola protettiva per il display ma ragazzi prima di capire quale dovreste acquistare vi dico anche che ci sono le offerte su tanti altri prodotti di Insta360 come magari il gimbal flow le webcam e su tutti gli accessori veramente ragazzi ci sono tantissimi prodotti e vi invito a dare un'occhiata al sito web ora quale videocamera fa al caso vostro? beh questo lo dovrete scegliere voi infatti riassumendo io utilizzo la serie X oramai la X4 quando mi servono delle visuali uniche se devo ottenere un effetto wow sicuramente vado con la mia X4 e primo appunto con la X3 se invece mi serve la miglior qualità video andrò di Ace Pro 1 o Ace Pro 2 quindi se non mi interessa avere la visuale a 360 perché non voglio magari la visuale in terza persona o comunque non mi interessa navigare nel video perché so che mi serve solamente quella porzione dell'immagine beh allora appunto utilizzo queste videocamere infine le Go ovvero la Go 3S e Go 3 le utilizzo quando devo fare personalmente dei video POV dove mi serve una videocamera leggerissima da agganciare alla maglietta registro dei contenuti e via queste sono ovviamente le mie opinioni io ho fatto tutte le recensioni le comparazioni di tutti questi prodotti che trovate linkate in descrizione insieme a tutti i link più volte vi ho ripetuto questa storia dei link ma se accedete direttamente al sito di Insta360 vedrete tutte le promozioni ma per avere tutti gli accessori extra che vi ho nominato beh sarete costretti a utilizzare i miei link chiaramente sono link di affiliazione e quindi sosterrete anche il mio canale beh ragazzi spero di avervi chiarito le idee di non avervi confuso più del dovuto in ogni caso se il video di oggi vi è piaciuto potreste lasciare un bel like un bel like